Una gran bella partita, dominata, era la risposta che la squadra doveva dare dopo il pareggio contro il Chievo. Sì, era una partita difficile, però sappiamo che dobbiamo vencere perché le altre squadre sono forti e dobbiamo vencere per la prima posizione. Abbiamo 9 punti in 5 gare, primo posto ad una gara dal termine, adesso che tipo di partita servirà a fare al Liverpool per conquistare la qualificazione? Sapiamo che è una partita molto difficile perché il Liverpool è una grande squadra, sul campo sono forti, però dobbiamo vincere, dobbiamo giocare come oggi e sicuro che facciamo bene. Avete fatto qui un girone molto buono, nonostante all'inizio il pronostico vi dava perdenti, ecco manca l'ultimo step. Avete però la convinzione di potercela fare adesso? L'ho capito bene. Dopo un girone molto difficile che il Napoli comunque ha giocato molto bene rispetto ai pronostici che vi davano invece perdenti, viste le altre squadre, adesso c'è più possibilità allo stato attuale, hai due risultati su tre per passare il turno al Liverpool? Sì, sappiamo che è difficile là perché i tifosi stanno sempre con loro, loro sono forti, però dobbiamo giocare come oggi, come noi sapevamo e penso che possiamo vincere là. Lunedì si torna in campionato, c'è l'Atalanta, bisogna ripartire dopo il pareggio col Chievo? Sì, è una partita difficile perché l'Atalanta sono forti sul campo, però noi dobbiamo vincere, dobbiamo stare vicino alla Juve e noi sapevamo che è difficile, però noi possiamo vincere. Grazie.